STICKMAN! Migliaia, milioni, un esercito di stickman! Ragazzi lo scopo di oggi sarà quello di trovare più stickman possibili! C'è lo stickman camuffato, lo stickman appeso, ma alcuni non ci sono! Per esempio lo stickman mancante! Non lo potrebbe essere! Un po' sempre! Insomma, centinaia di stickman, tutti da scoprire! Come il mio libro, le pietre del destino, un libro stupendo d'avventura dove ci sono mostri, battaglie e c'è pure pingu! Quindi ragazzi vi lascio il link di Amazon sotto in descrizione e lo potete trovare anche in libreria! Iniziamo a cercare gli stickman! Ciao a tutti! Benvenuti su Trova gli Stickman! Ma già ci sono i stickman! Collezionami! Subito ti colleziono! Stai simpatico a pinguo, lo sai? No! Visto, anche lui ama i stickman! Ho trovato stickman normale! Bellissimo! Ok, come vedo ci sono tanti livelli di possibilità di trovarlo! Dal più facile al più surreale! Cioè, addirittura surreale! Ah! Orrificante! Ma che significa orrificante? Ok, io direi di iniziare! Dobbiamo trovare i stickman! Iniziamo! Ok, da dove posso iniziare a cercare i miei stickman? Che cos'è questo? Posso scegliere tra il regno di neve e il regno di vulcano! Andiamo sul vulcano! Forza, sono pronto! Vulcano! Nooo! No, ok! Forse non è bello andare sul vulcano! L'eruzione vulcanica in 15 secondi! Ma che stai scherzando? No, brucerò! Ma qua c'è uno degli stickman più belli! Lo stickman di lava! Infatti già l'ho visto! E qua! Pronto! Prendilo! E qua! Magma stickman! È troppo bello! Aspetta, vediamo la stickpedia! Quanti ce ne sono! Tutti bellissimi! Il mio obiettivo sarà il clown stickman! Perché sono un clown! Popi popi! Dai, andiamo! Ce la possiamo fare! Possiamo trovare altre stickman! Non credo che ci sia solo quello di magma qua, vero? Ce ne sarà anche un altro! Eccolo! È là! Cosa sta vendendo? È limonata! Limonata un po' scottante! Limonata a 99 centesimi di dollaro! Ok! Me ne dico un paio! Grazie! Ho trovato limonata stickman! È troppo bello questo gioco! Ce la posso fare, Pingu! Non ti preoccupare! Confiti in me? No! Ok! Grazie per la fiducia! Qua che cosa c'è? Ma credo che ci sia qualcosa da queste parti! Un altro stickman! Lo vedo! È là! Eh sì! Come ci arrivo? Cioè, spiegami! Come faccio ad arrivarci? Come ci salto là? Cosa stai dicendo? Ma tu sei pazzo! Ma se dici davvero? Ok! Ce la possiamo fare, Pingu! Abbi fiducia in me! Non cadremo! Fidati! No! Lo so! Sto zitto! Sto zitto! Scusa! Sto zitto! Uh! Che trick! Ho capito! Ragazzi! Ho capito il trick! Ok! Non avere paura! 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 Non avercela! Come facciamo ad arrivare lì? E' per un bene superiore, Pingu! Per un bene superiore! Per un bene superiore! Per un bene superiore! Per un bene superiore! Splash! L'ultimo! Splash! 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 Eh! Eh! Ok! Mo' Calma! Perché io in quelle cose più semplici! Faccio schifo! In le cose più semplici! Faccio schifo! Sì! Ho trovato lo stickman di muschio! No! Vabbè! Troppo forte! Che livello di rarità! Livello di rarità! Difficile! Allora orribilante! Che livello è ragazze? Troppo bello! Ok! Adesso io non ho più paura di nulla! Però l'elicottero non lo voglio! Sì! No! Non ti spiego come l'ho fatto! No! Non ti insegno come fare le cose! Andiamo via da questo vulcano che già mi ha fatto perire! Qua... Che cosa c'è? Che cos'è sta faccia? Ho trovato lo stickman! Ah! Lo stickman fatto di Ossidiana! E ci scherzi! Certo che lo dovevo trovare lo stickman fatto di Ossidiana! Ok! Stavolta dove vogliamo andare? Nostro carissimo Pingu Pinguino! No! Ah! Neve! Eh! Lo so! Neve! Ma intanto qua ce ne abbiamo un paio da sbloccare! C'è il Wuff Wuff! Ah! Stickman Doggo ti darà il suo badge una volta che trovi lui tre volte! Ho capito! Allora! Io qua ne ho trovato una! Allora! Stickman è pirata e Stickman è pescatore! Yeah! Fishing e Stickman! Adesso voglio l'altro! Dov'è l'altro? Dammi lo Stickman! No! No! Non è il deserto! No! Non è il deserto! Io mi sciolgo così! No! 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 No Pingu per favore! Non scioglierti! Dobbiamo trovare le cose! E infatti io dico che qualcuno si scioglie! Infatti eccolo! Lo Stickman è sciolto! E ci mancava! A sto punto cerco pure lo Stickman e mummia! Già che ci siamo! Quindi vado di qua! Dai! Se ho fatto quello posso anche fare queste cavolate! Guarda che forza! Attenzione! Siamo dentro una piramide! Stiamo per andare dentro la tomba delle mummie! Lo Stickman e mummia! Mummi! No! Abbiamo fatto tutto sto coso e poi non ti piace! Ragazzi ma cosa c'è qua? Non è normale sta cosa! Qualcuno è uscito dalla tomba! Oh no! Qualcuno è uscito dalla tomba! Attenzione! Un passaggio segreto! E da che parte vado? Eccolo! Lo Stickman è il tesoro! Livello di difficoltà medio! Ma quanto è bello questo gioco! È stupenda questa modalità! Ora come faccio ad uscire fuori? Ok! C'è altro? Che mi dovete dire? No vabbè! Cosa è questa cosa? Scendiamo! Non so te! Non so dove andremo! Non so che fine faremo! So solo che dobbiamo trovare Uno Stickman! C'è qualcosa che non va... Qualcuno ci ha buttato qualcosa! Non possiamo scendere! Qualcuno ha bloccato l'entrata! Avete bloccato l'entrata maledetti! Va bene ho capito! Hanno bloccato l'entrata del tempio! Vediamo se c'è qualche altro Stickman qua! Eccolo uno Stickman! Uno Stickman che si sta facendo il bagno! Bravo! Bellissimo! L'ho preso! Lo Stickman che sta nuotando! E grazie! Che Stickman doveva essere! Ve le fammi entrare dentro questo strano templio! E fammi vedere se c'è qualcosa di bello! Wow! Bellissimo! No! Re Stickman! Posso prenderlo? Eccolo Re Stickman! E io lo prendo! Certo che lo prendo! Wow! Questo è stato stupendo! Bellissimo! Mi trovavo nel deserto! Poi mi sono detto! Fa un po' schifo! Quindi andiamo al party! Andiamo al party! Oh! Allora questo lo voglio! Grandissimo! Questo lo voglio! Eppure questo lo voglio! E poi ci abbiamo anche un altro! Quello da un milione di visite! E ora facciamo contenti pingu ragazzi! Andiamo! Sulla neve! No! Benvenuti a che bella la neva! C'è di tutto! C'è di più! Ci sono gli Stickman ghiacciati! No! Povero Stickman! Ne si è ghiacciato! Qua c'è il pupazzo di neve Stickman! Non lo voglio ragazzi! Questo lo voglio! Dai vai! Prendilo! Make me a friend! Get me a stick! Ma pingu è diventato amico! No! Ok! Così si fa amicizia! Non si fa così amicizia! Oh no! E' triste questo! Ah! Uno Stickman confortevole! Cos'è questa? Che sorride! Devo trovare un amico allo Stickman pupazzo di neve! E dove io lo trovo? Sicuramente dovrò trovare qualcosa! Ah! Delle scale! Ok! Saliamo! Saliamo! Sicuramente qua andiamo da qualche parte! Ancora scale! Un lube di Roblox! Ma proprio un lube lube! Eppure senza nome! Ok! Salgo insieme a voi ragazzi! Aspettatemi! Non riesco a si... Ah! Ma perché faccio schifo così tanto? E sali! Si guarda perfino il lube di Roblox! Ce la faccio! Io sono più lube del lube! Prendete conto! Oh ma ragazzi! Ma non riesco a prendere veramente un paio di scale! Ma che cosa sto dicendo? Ma perché non me la piglia? Uuuuuh! E dimmelo! E vai! Ok! Sto salendo! Uuuuuh! Il passaggio finisce... Come il passaggio finisce qua? C'è lo stickman che sta facendo il marshmallow! Mamma mia! Compare! Mi è comparso davanti! E assolutamente! Qua! Cosa succede? No 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 no! Ok! Ma seguiamo... Il nube di Roblox! Che sa fare le cose! Ok! Questo è facile! Questo... Questo l'ho imparato! No! Mannaggia! Non l'ho imparato proprio! rimango qui va bene bloccato come lui sì io no ho capito che qualcuno mi aiuti sono incastrato ce la favo ce l'ho fatta la mia tecnica di prima funziona meglio buttalo buttalo poi giù vai tu scherzi vero no 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 ti prego ti prego no non voglio rifare è solo questo ti prego che è solo questo si babbo natale stickman un attimo che livello è babbo natale stickman ti giuro se mi dice facile facile io ti faccio male va bene ragazzi io direi di finirla qua spero tantissimo che questo video su trova i stickman vi sia piaciuto e nulla iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto lascia un sacco di pollice in su tuo postro lo resiste tutto e noi ciao